Le comiche ragazzi, siamo alle comiche. Allora, premetto che da domani torneremo a parlare di calcio giocato e questa scaramuccia, polemicuccia, salvo strascichi, ce la lasciamo alle spalle. Ce la lasciamo alle spalle con gran consapevolezza che non sono tutte le altre quelle che vengono sempre, insomma, penalizzate dalle decisioni arbitrali, dal VAR, ma spesso questa sorte tocca anche a noi. Soprattutto una partita, ripeto, che l'ha vinta. Al di là, ripeto, della prestazione che ho già analizzato, è la prima cosa che ho fatto, la prestazione. Ma questa polemica, ragazzi, va portata avanti perché dobbiamo far valere, insomma, la nostra voce e le nostre ragioni, altrimenti risultiamo difessi. Quando si parla sempre di comunicazione silente da parte della società, io, ragazzi, non la capisco, non la capisco, ma porto avanti questo tipo di discorso perché se non lo fa la società, non lo fanno i media, chi lo deve fare? Almeno, io ho un po' di visibilità, ecco, almeno tre di noi e a questo punto credo che portare queste istanze di tanti in una piattaforma come YouTube credo che possa essere utile. L'AIA, ragazzi, non si scusa, l'AIA, ragazzi, non si scusa, l'AIA che cos'è, per chi non sapesse? È l'Associazione Italiana Arbitri. Questa è l'AIA, quindi l'AIA ha fatto una sorta di comunicato che adesso andrò a leggervi, ok? Ma prima di iniziare, ragazzi, vi invito ovviamente a iscrivervi al canale, mostrate il vostro sostegno con un like al video, con il vostro commento, con la vostra opinione, anche se avversa e contraria, se fatta con educazione, in questo canale c'è spazio per tutti. Ho solamente bannato chi in maniera pretestuosa iniziava a dire Ah, insomma, sta roba del gol di Montari, questo è il karma e tutte queste stupidaggini qua per creare un po' di cagnare e caos all'interno dei commenti. Quelli là li ho bloccati, ma per chi mi dice Guarda, non sono d'accordo, per me ci sta, ci sta, ci sta tutto. Per me l'AIA non si deve scusare, cioè dite quel che vi pare. Però l'AIA ha qualcosa dove a dirlo, anziché cercare di arrampicarsi sugli specchi. Dopodiché, ragazzi, scaricate la PuanFootball, trovate il link in descrizione dell'app che mi ha inviato questa cosa, questa notizia, l'ho letta da Skype, poi sono andato ad approfondire su Twitter, su gol.com, eccetera, e ho visto un po' questa notizia. Allora, secondo l'AIA, a quanto pare l'AIA ha cercato di fare chiarezza, chiarezza, e non ci è riuscita in realtà. In seguito all'onfield review, infatti, il direttore di gara ha stabilito che la rete quindi non era valida. Il problema qual è stato, secondo l'AIA? L'organo tecnico della Cannes, ha dichiarato l'AIA, ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del VAR e del apostrofo a VAR per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione. In pratica non c'erano le immagini, cioè non avevano a disposizione le immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in occasione del gol di Milik. Questa è la prima cosa. Ora, io non sono un esperto avarista, ma in genere uno quando deve andare a zoomare una certa situazione parte da una grande angolare, come ha detto benissimo Fabio Caressa ieri alla trasmissione Il Club, è un po' come quando io faccio delle stories o dei reel, per esempio per Instagram, avendo un formato orizzontale. Che faccio? Lo allungo, lo ingrandisco e vado a zoomare la parte che mi interessa, perché altrimenti è difficile trarre qualcosa da quel formato. Quindi l'AIA, quando gli arbitri del VAR hanno visionato questo episodio, sono andati direttamente sul microelemento anziché soffermarsi sul macro, quindi non hanno prima visto la telecamera grande angolare e la visione su tutto e quindi hanno tracciato la linea direttamente sul mischione senza preoccuparsi della presenza di altri giocatori. Ora, io vi dico una cosa ragazzi, è una balla. Questa è una balla, il fatto che l'AIA non avesse l'immagine, cioè che gli arbitri non avessero l'immagine a disposizione, perché ripeto, la grande angolare allo stadio c'è, ma sapete perché è una balla bella e buona? Perché se andiamo a vedere anche la situazione in occasione di Candreva, quando va a segnare con la mano attaccata al corpo o con la mano staccata dal corpo, ancora non si capisce perché è veramente difficile trovare lì l'immagine, il frame immagine che chiarisca bene la situazione, perché la palla va a una velocità pazzesca. Mazzocchi mette una fucilata dentro l'aria, difficilissimo. Secondo me è gol, ci può stare il gol. Non sto qui a sindacare su questa cosa che può essere veramente soggetta ad interpretazioni differenti in base all'arbitro, in base alla dinamica dell'azione stessa. Ma quella telecamera da cui viene vista l'azione di Candreva è la stessa che avrebbe individuato lo stesso Candreva in occasione del calcio d'angolo. Per cui basta mettere, signori, l'errore e non succede nulla, perché è una balla il fatto che non ci sia l'immagine. Ripeto, hanno la grande angolare, quindi vedono tutto lo stadio. Avete visto anche le prime foto che sono uscite mandate dai giornalisti, dai vari giornalisti. C'è Candreva in quella posizione, per cui la grande angolare c'è. Si guarda la linea nell'aria, si guarda la linea con Candreva e si vede poi la posizione di Bonucci di conseguenza. Cioè, a me fa arrabbiare il fatto che si trovino delle scuse, delle scuse per questa vicenda. Basta dire, è un errore grave. L'arbitro è che stava al bar, Banti. Poi, l'arbitro in campo, eventualmente, non so se ne può, insomma, si può avere delle conseguenze per questa cosa. Chiunque, chi che sia, i responsabili, vengono puniti, sbarra, sospesi, eccetera, eccetera. Questa roba non è avvenuta. Cioè, io ho visto l'arbitro che, cioè l'AIA, che per esempio si scusa col Milan in occasione di Milan-Spezia. Che è l'episodio che vi ho raccontato prima, dove anche io vi ho chiaramente detto, detto, che lì c'è stato un errore ai danni del Milan. Poi il Milan ha vinto meritatamente lo scudetto e nella corsa io credo che questa partita sia ininfluente, ininfluente. Sarà ininfluente, ragazzi, ai fini di certe cose. Alla fine, se otteniamo certi obiettivi è perché lo meritiamo nel lungo periodo. Non è questa gara qua che va a incidere negativamente sul bilancio totale della stagione, mi state capendo. È un episodio grave, però a maggior ragione l'AIA lì doveva mettere, signori, qua al VAR hanno sbagliato, avevano tutti gli elementi per valutare e hanno valutato male. Facciamo mea culpa, facciamo un incontro con tutte le squadre per capire quali sono le problematiche riscontrate, ci riorganizziamo. Cioè vai a fare prima mea culpa e poi a creare un contesto costruttivo su cui dibattere. Ma non questa roba qua, perché questa è una presa per il culo, ragazzi. Le immagini per esempio di Candreva sono chiare, ma ripeto, bastava partire veramente dalla grandangolare per capire poi dove zoomare e comprendere se effettivamente Bonucci era in linea o meno. Però ripeto, sempre quello deve essere il funzionamento. Si parte da una telecamera che riprende tutto e poi si va a zoomare, soprattutto nei fuorigiochi, perché devi avere un'idea chiara di tutte le persone, tutti i calciatori che sono presenti all'interno del terreno di gioco e comprendere veramente se quello è fuorigioco o meno. È stata fatta una cosa in maniera molto superficiale. La cosa che mi stupisce, anche come ha detto oggi Trevisan, ospite a Juventibus, ho visto degli spezzoni, dice una cosa molto interessante. La cosa che stupisce è che tu vai a decidere 97 minuti di partita visionando il video per 8 secondi con una superficialità pazzesca. Perché poi, oltretutto, al di là della regola o meno del fuorigioco attivo o passivo, la Bonucci non incide minimamente sulla questione fuorigioco attivo. Quello è un fuorigioco passivo tutta la vita. Il portiere aveva la visuale perfetta, il portiere vedeva tutto e non ci sarebbe mai arrivato. Sempre per cui non ha alcun impedimento a intervenire, vista anche la posizione di Bonucci. Per cui, ragazzi, rimane un errore sull'errore. Cioè, Laia non si scusa e spara la cagata. Cioè, questa, ragazzi, è la sintesi. Noi, cioè, ci hanno beffato e anche preso in giro, praticamente. Questa è la cosa che mi dà terribilmente fastidio. Signori, chiudiamo questo argomento. Pensiamo alla prossima partita, che è importantissima col Benfica. Voglio vedere un'altra Juve. Voglio vedere una Juve migliore di quella che ho visto con la Salernitana. Ma non parlo dei minuti del forcing o di quei minuti che abbiamo fatto benino. Parlo della gestione dei 90 minuti, che è la cosa che ancora non sappiamo fare. Ci spegniamo, accendiamo l'interruttore così a intermittenza. E così in Champions non si va da nessuna parte. Mercoledì ci giochiamo gran parte della stagione. Ahimè. Quindi, speriamo bene e sempre, fino alla fine. Forza Juve.